Le serve aiuto oggi? La Robbins ha la festa del bambino, sono libero. Continui a non piacermi, carevo. Su, addio. Ho finito di rifare il gesso alla piccola O'Connor. Vuole che svuoti il drenaggio a Jason Cook? No, già fatto. Puoi pensare agli altri pazienti, no? Credo ci sia una toracentesi da fare. Davvero? Grazie! Siamo d'accordo per stasera, ho prenotato per le sette. Oh sì, certo. Va bene. Farai una grande carriera scopando. Sono colpito. Io non scopo con Stark. Io non scopo con Stark. Non stiamo neanche insieme. Non stiamo neanche insieme. Non stiamo insieme, no. Sì, forse l'ho pensato all'inizio, ma non è così. Usciamo insieme e basta. Da amici. Sì, amici nudi.